Starei bene? La verità ti renderà libero. Così si dice. È una bugia. Ma avrei dovuto schierarmi con Leah. Il programma di un computer non può deluderti. La gente, invece... Puoi contare sulla gente più di quanto credi. Ti stupiresti. Così che pensavi che sarebbe andata la vita? Lascia stare. Devi rispondere.